a casa, seguite questa indivisione per stipulare il prima possibile la vita di portare questi giorni. Vi ringrazio e vi chiedo la massima consapevolezza e la massima collaborazione. Grazie, continuando per tutti i miei anni in relazione, l'obbligo di stare a casa. Mi ricordo, l'obbligo di rimanere a casa. Accadeva con la vostra salute e dignità intorno. Non sono eccezioni per le uscite riguardo, motivi di lavoro, motivi legali alla salute, le cose essenziali come fare l'attesa.